Eletto il nuovo presidente dell'Associazione del Giovedì Santo è Archangelo Giammusso, che succede al presidente uscente Roberto Morgana, in carica dal 2014 al 2020 e poi con la proroga dell'incarico di altri due anni durante il periodo della pandemia. Giammusso, 23 anni, imprenditore, nipote del tipografo Michele Alloro, uno dei decani del Giovedì Santo, che fu già presidente della stessa associazione. Il giovane ha da sempre nutrito una vera e propria passione per la tradizione del Giovedì Santo tramandatagli dal nonno fin da subito e per la vara dei tipografi la condanna. Due i candidati che hanno partecipato all'elezione, oltre a Giammusso, anche Giuseppe Botta, figura storica della Settimana Santa, presidente della Lega San Michele. Presente al momento anche il primo cittadino di Caltanissetta, Roberto Gambino, che ha partecipato a questa assemblea, visto che anche il comune della città è socio dell'associazione, perché detiene la vara del Sinedrio. Archangelo Giammusso, nuovo presidente, per i prossimi tre anni, conterà anche sulla collaborazione dei due vicepresidenti, Roberto Morgana, presidente uscente e Alessandro Barrafranca. Ad essere tesoriere dell'associazione Antonio Amico e segretario Giuseppe Polizzi. Giammusso stesso ha ringraziato tutti i soci ed ha anticipato che il nuovo anno sarà dettato su un percorso all'insegna di innovazione rispetto della tradizione.